Un incontro proficuo dal valore istituzionale ma anche di sicura prospettiva a quello che si è svolto a Gubbio grazie all'azienda di moda Sartoria Gubina. A Palazzo Pretorio il sindaco Stirati ha ricevuto l'imprenditrice di Hong Kong Francesca Li, ospite per visitare e conoscere da vicino il modello imprenditoriale di Sartoria Gubina e per consolidare un rapporto di collaborazione già in essere con la produzione di abiti. Accompagnata dall'amministratore di Sartoria Gubina Rudy Severini, l'imprenditrice ha dichiarato di essere rimasta colpita e affascinata dalle bellezze artistiche e architettoniche della città. Ai nostri microfoni poi ha spiegato gli obiettivi di una sinergia commerciale importante che può aprire prospettive di sviluppo nei mercati asiatici e nordamericani. Stiamo visitando l'azienda Sartoria Gubina grazie a Rudy Severini. Stiamo cercando poli produttivi di alta qualità del manifatturiero e tessile per allacciare rapporto con società dell'area sud-asiatica e nel Nord America. Da sempre c'è grande ammirazione e domanda per il Made in Italy, soprattutto nel campo della moda. Abbiamo girato molti paesi, soprattutto in Europa, dove ci sono buone produzioni ma nessun prodotto suscita il fascino di ciò che si produce in Italia e noi siamo qui per questo. Il sindaco ha illustrato le potenzialità di relazioni e scambi e ha auspicato un proficuo intensificarsi dei rapporti commerciali e di amicizia. A capo di un'impresa in espansione, Francesca Lì ha già ordinato a Sartoria Gubina una linea di abiti su misura da commercializzare in Cina. Se l'intesa produrrà ulteriori passi avanti, si potrebbe aprire uno scenario di notevole interesse in forte crescita e attento anche ad approfondire scambi culturali con la città. Rientra un po' in quello che era il progetto aziendale che proponemmo all'inizio di questa bella avventura rafforzarci produttivamente con collaborazioni interne, quindi nazionali ma nello stesso tempo iniziare anche a pensare oltre. Pensare oltre ha significato andarci a proporre con il su misura che è un po' il nostro core business ovvero l'azienda è nata proprio con l'obiettivo di sviluppare il su misura aprirci mercati più recettivi. In questo senso Hong Kong è nella dimostrazione unitamente anche a un'altra apertura molto importante che si sta sviluppando con gli Stati Uniti, con Salt Lake City. Credo che sia da apprezzare da parte di Sartoria Gubina questa sua apertura verso mercati internazionali in questo caso appunto parliamo di Cina, di Hong Kong, con una realtà molto innovativa, molto aperta e capace appunto di stare dentro i circuiti internazionali più significativi.